Salve, questa giornata vi proponiamo una macchina da cucire revisionata con due anni di garanzia, modello Durko Paddler 767373, una macchina per filati grossi e spessori da 7 a 10 mm, tra la quale la macchina si vede è tutta interamente revisionata, già norme C.E., a un prezzo modico di 2800 euro, ripeto, 2800 euro, una macchina che vi può cucire il filato fino allo spessore dello zero. Grazie per la visione!